Gormiti, potenza degli elementi! Potere dell'oceano! Combatti! Aguilus, difensore degli oceani! Ottimo lavoro, guardiani! Questo cannone è stato creato per i Solark, ma se riuscissimo a indirizzargli le nostre energie... Avete sentito, ragazzi? Furia dell'oceano! No! Non gli abbiamo fatto niente! Con quel frammento i suoi attacchi sono troppo potenti! Sono stati più forte, ragazzi! Oh! Allora! Grazie a tutti. Quelle frecce vengono dritte verso di noi! Attenzione! Ma come ha fatto? Grazie a tutti.